Pensavamo, buongiorno a tutti, tanto auguri a voi. Buon santo Stefano e un augurio di cuore a tutti coloro anche che ci stanno seguendo. Oggi noi non avevamo un programma di fare un punto stampa, però abbiamo una comunicazione importante da dare. Vi do, come da consuetudine, il bollettino, cercherò di farlo anche velocemente, nel senso che il totale di tamponi molecolari è di 3.219.024. Vedete che crescono sempre di più, siamo ormai verso i 5 milioni. Test rapidi 1.728.904. I positivi dall'inizio dell'infezione del febbraio sono 237.315. Positivi che abbiamo trovato, non sappiamo quanti ce ne sono. E nell'ultime 24 ore l'unico dato che abbiamo, come si era da ieri a Natale, abbiamo trovato con i test 2.523 positivi. Eccoli qua. Ultime 24 ore. Positivi di oggi sono 88.842 in Veneto. Totale di ricoverati 3.275 ricoverati, così suddivisi. 3.89 in terapia intensiva più 5. 2.886 meno 22. Totale dei morti 5.986 più 33. I dimessi sono oltre 10.000. Allora, guardate, io mi zittisco subito. Due sole parole. Intanto ringrazio veramente di cuore la dottoressa Ricci, che è figura centrale nella comunicazione di oggi. E la dottoressa Ricci è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Per noi è un riferimento solido, una colonna portante del sistema sanitario del Veneto. Perché con la dottoressa abbiamo stretto una grande collaborazione con l'Ozoprofilattico. L'Ozoprofilattico siamo noi praticamente, perché siamo componenti importanti dell'Ozoprofilattico. Ma è una realtà che poi ha una sua autonomia. E ringrazio non solo lei, ma anche i tantissimi collaboratori che ha. E un particolare saluto ai giovani che si sono messi a disposizione. Perché quando tu ricevi, o il telefonino fosse incenerito, se non fosse così, alle 23.59 della vigilia, cioè un minuto prima del Natale, abbiamo trovato il virus inglese, dico che questi signori sono da premiare e da ringraziare, perché erano in laboratorio. E non solo quello, perché hanno trovato, bravi, ma posso dire anche abbiamo trovato, perché questo parte da un'idea di sequenziazione che abbiamo attivato con l'Ozoprofilattico già da quest'estate, abbiamo avuto ben altre e importanti informazioni. Per questo oggi vi abbiamo coinvolto. Ve ne dico una per tutte e poi ve lo dirà la dottoressa Ricci. Una, ve ne dico una per tutti, abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello che abbiamo adesso. Quindi aveva ragione Rigoli, che lo diceva sempre quando tutti dicevano che avevamo le feste e la libertà estiva ha diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati che ci ha dato la dottoressa, non è con la mutazione che avevamo quest'estate. Quest'estate fa così, puff, e chiude. Poi inizia a ballare la turbolenza in volo con una nuova mutazione dall'autunno ad oggi. Ma ci sono altre notizie in più che ve le dirà lei. Penso sia doveroso lasciare la parola alla dottoressa Ricci che darà informazioni uniche e che potranno dare anche spiegazioni per quanto, diciamo, in erba ancora, primordiali, anche di cominciare a intravedere anche come si può dire, qualche luce nella stanza buia rispetto all'infezione del Veneto negli ultimi due mesi. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Grazie mille, Presidente, di questa bellissima introduzione. E davvero, l'Istituto Zooprofiatico delle Venezie è sicuramente parte della Sanità del Veneto e noi siamo molto contenti di poter dare il nostro contributo. Come direttore generale, io oggi sono il portavoce di un gruppo di lavoro. Ci tengo a citare il dottor Terregino e la dottoressa Monne e il loro gruppo di ricercatori che sono appunto coloro che la vigilia di Natale stavano in laboratorio Terregino e Isabella Monne. Monne. Calogero, bravi. Ormai già lo conoscete. L'abbiamo conosciuto anche qui. È venuto qui con me la volta scorsa e dicevo con i loro ricercatori appunto erano la vigilia di Natale in laboratorio a caratterizzare i virus che abbiamo ricevuto per cercare questa famosa variante inglese che tanto preoccupa le autorità di tutta Europa. Tutto il lavoro che facciamo è sempre in stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità con i colleghi siamo allineati per quanto riguarda le metodiche che utilizziamo e i risultati che troviamo. Anche questo è importante da considerare. Il lavoro che vi presento oggi deriva da un progetto della Regione Veneto un progetto a mio modo di vedere molto lungimirante che è nato già un paio di mesi fa e che ha proprio l'obiettivo di caratterizzare tramite sequenziamento i virus isolati in Veneto. Perché noi, perché l'Istituto Zooprofilattico ha avuto il compito di fare questo lavoro? Perché il nostro gruppo di virologia è anche fra l'altro centro di referenza europeo per l'influenza aviaria e il nostro lavoro è proprio quello di seguire i virus in corso di epidemia. lo facciamo appunto con l'influenza aviaria e con tanti altri virus animali ma credo che insomma questa pandemia ci abbia insegnato che un virus è un virus che sia negli animali o che sia nell'uomo non cambia molto e sicuramente abbiamo delle competenze molto solide proprio nel tracciamento dei virus in corso di epidemia. Allora, quelli che vi do oggi sono i primissimi risultati di questo studio e insomma sarà per me un piacere poi tenervi aggiornati man mano sui risultati che avremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Allora, innanzitutto abbiamo caratterizzato 37 virus inizialmente isolati in Veneto nel mese di novembre e in questi primi virus non abbiamo trovato la variante inglese ma abbiamo trovato otto diverse varianti del virus SARS-CoV-2. Due di queste varianti non sono ad oggi ancora state trovate in Italia quindi potrebbero essere caratteristiche del nostro territorio e poi vi darò qualche informazione in più la maggior parte di questi virus appartengono a una variante che c'è anche in Italia e anche in altri paesi europei caratterizzata da una mutazione sulla famosa proteina Spike che ormai credo conosciate tutti che rende questa variante più diffusiva più contagiosa dopo vi farò vedere un grafico che spiega bene l'andamento di questi diversi tipi di virus dopodiché proprio invece in questi ultimissimi giorni abbiamo ricevuto cinque campioni da pazienti che avevano avuto un collegamento con il Regno Unito e che quindi erano sospetti di poter essere veicoli della famosa variante inglese allora abbiamo messo a punto e ancora grazie al lavoro dei ragazzi in laboratorio una metodica rapida che permette di caratterizzare proprio le mutazioni tipiche sulla proteina Spike della variante inglese quindi non ha rapida che identifica le mutazioni tipiche della variante inglese quindi non abbiamo dovuto sequenziare tutto il genoma lo faremo comunque ma ad oggi abbiamo questa metodica che permette rapidamente di dire se si tratta o meno della variante inglese o meglio se ci sono quelle mutazioni tipiche della variante inglese e di questi cinque campioni tre sono risultati positivi due della provincia di Treviso e uno della provincia di Vicenza ma poi i colleghi la dottoressa Russo e il dottor Rigoli vi daranno informazioni sui pazienti perché ovviamente noi guardiamo i virus e ci limitiamo a quello allora venendo alla questione dei diversi tipi di virus che circolano io vorrei portare la vostra attenzione su questo grafico in questo grafico voi vedete due parti questi sono le diverse varianti di virus SARS-CoV-2 isolate in Italia durante tutta l'epidemia e questa è la stessa informazione data per i virus veneti allora se vi ricordate quando ero qui la volta scorsa vi dissi che un virus non è un singolo individuo è una popolazione e questa immagine secondo me lo rappresenta molto bene ogni colore ogni picco sono tipi di virus diversi caratterizzati da mutazioni diverse allora la prima questione molto evidente è che i virus della prima ondata quali vedete in violetto azzurrino e verde sono diversi da quelli della seconda ondata quindi stiamo avendo a che fare con tipi di virus completamente diversi quello che qui vedete in beige è questo famoso virus che c'è in Veneto c'è in Italia c'è anche in altri paesi europei da noi da noi sembra essere molto presente che ha una mutazione che lo rende più contagioso peraltro come vi dicevo prima in Veneto abbiamo anche trovato delle altre varianti ad oggi singoli casi quindi ovviamente dovremo approfondire gli studi dicevo singole varianti anche queste caratterizzate da elevata contagiosità che quindi potrebbero spiegare l'elevato diffusione l'elevato numero di casi che abbiamo visto in questa regione tutto questo vi dico oggi è un'informazione preliminare dovremo approfondirla meglio ma sicuramente la seconda ondata è caratterizzata da tipi di virus diversi c'è poi questo quadratino giallo che vedete in mezzo che sono i virus di quest'estate mi pare che il grafico sia autoesplicativo sono virus che li abbiamo visti quest'estate e poi non li abbiamo più visti quindi sicuramente non c'è un collegamento rispetto alla famosa seconda ondata per concludere io vi mostrerei perché gli inglesi hanno trovato la variante inglese questo grafico che sembra tutto bianco ma ha una prima colonna qui mostra il numero di sequenze che fino a pochi giorni fa erano depositati nei database pubblici si chiama G-SIDE il database che raccoglie le sequenze fatte in tutto il mondo se vedete la colonnina blu la prima sono le sequenze depositate dagli inglesi quella dopo arancione sono le sequenze americane dopo ci sono quelle europee praticamente niente l'Italia se la vedete c'è una freccetta verde non siamo messi malissimo ma sicuramente abbiamo un numero di sequenze depositate bassissime rispetto a quelle dell'Inghilterra ed è questo nel grafico sotto vedete l'andamento nel tempo le colonne blu sono sempre gli inglesi vedete che la seconda ondata praticamente è stata caratterizzata soltanto in Inghilterra e quindi è abbastanza chiaro che una variante come noi oggi vi stiamo parlando di un virus che abbiamo identificato con delle mutazioni in Inghilterra la stessa informazione riguarda una percentuale molto ampia dei virus isolati allora io concluderei con una raccomandazione con un'osservazione cioè con quanto sia importante caratterizzare questi virus per seguirne l'andamento in Veneto abbiamo questo progetto di cui vi parlavo all'inizio che ha proprio questo obiettivo di seguire il virus e vedere come il virus cambia per poter capire l'andamento dell'epidemia per poter mettere azioni di controllo che siano efficaci che siano mirate se si conosce bene quello il nemico con cui stiamo combattendo è molto più facile combatterlo l'altra questione riguarda la disponibilità delle informazioni come vi facevo vedere gli inglesi depositano tutte le sequenze che hanno in database pubblici noi facciamo lo stesso devo dire che in Italia la maggior parte delle sequenze depositate sono degli istituti zooprofilattici che sono una ricchezza sul territorio nazionale sono diffusi in tutta Italia sono dieci gli istituti a livello nazionale stanno tutti sequenziando e tutti mettono a disposizione le informazioni questo è fondamentale in un evento così drammatico come la pandemia da covid non si possono tenere le informazioni nei cassetti magari per pubblicarle successivamente è fondamentale mettere a disposizione l'informazione immediatamente in database pubblici che siano accessibili a tutti ed è questo il motivo per cui vi do queste informazioni oggi anche se sono informazioni preliminari ma riteniamo assieme al presidente e assieme ai suoi collaboratori che sia fondamentale dare subito le informazioni e metterle a disposizione di tutti io ringrazio dopo ovviamente la dottoressa è a disposizione per le domande finiamo un breve giro di interventi lo ringrazio perché avete capito la strepitosa notizia che voleva andare della scoperta che è stata fatta dei due virus dei tre campioni con virus varianti inglesi ma poi di tutto quello che è rappresentato da queste mutazioni che sono venete quindi approfondiremo ancora di più passare la parola al dottor Rigoli ci scambiamo i posti e dopo grazie parto con una considerazione ancora una volta o si lavora di squadra oppure non si va da nessuna parte questo l'ha dimostrato il gruppo che abbiamo messo insieme quest'estate con l'istituto zoo profilattico ringrazio l'Antonia che è una cara amica da tanti anni e la ringrazio perché vorrei ricordare che quando siamo andati all'ex caserma Serena a fare i tamponi ha mandato anche uno dei suoi ragazzi che se vuoi ricordare il nome è venuto con noi e ha fatto il lavoro quindi diciamo che quest'estate non abbiamo dormito abbiamo fatto questo progetto ci siamo sentiti frequentemente è stato scritto e abbiamo ulteriormente compattato le fila ecco questo è l'altra considerazione che faccio è questa che la clinica è sempre importantissima anche nei corsi di infezioni epidemiche perché quello che avevamo visto quest'estate che l'abbiamo detto più volte poi si sta confermando adesso vedremo sequenzieremo ulteriormente i campioni tenete conto che noi abbiamo ottenuto tutti i campioni e abbiamo fatto un progetto quest'estate scritto pianificato di modo che i campioni arrivano li abbiamo già inviati all'istituto per ogni mese a partire da febbraio quindi dentro ci sarà lo studio di tutti andremo a vedere ulteriormente con dati ancora più pesanti questa cosa e l'altra cosa importante che vi dico è questa tutti i pazienti che sono stati identificati dall'antonia per quanto riguarda la variante inglese hanno fatto l'antigenico e l'antigenico è risultato positivo per tutti i pazienti quindi il test rapido antigenico ha funzionato anche per la variante inglese d'altra parte ricordo che questi test vanno a cercare la proteina N e non la proteina spike ecco io mi limito a questo poi dopo magari lascio le domande diciamo così che quello che abbiamo messo in piedi servirà moltissimo a livello italiano e anche a livello internazionale la filosofia nostra è sempre quella di mettere in trasparenza i dati appena abbiamo avuto i dati li abbiamo messi in trasparenza e penso che dobbiamo continuare così grazie dottoressa Russo per la parte rapporti ISS comunicazioni perché adesso parte parte una macchina infernale rispetto a quello che abbiamo scoperto e che viene segnalato infernale ma parte una macchina insomma diciamo buongiorno a tutti scusate buongiorno a tutti sì mi faccio un intervento molto veloce come dice il presidente è chiaro che noi siamo come ha detto anche la dottoressa Ricci siamo in collegamento con il ministero con l'istituto uno perché la banca dati di che ha l'IZS è anche in condivisione con l'istituto superiore di sanità e pertanto tutto viene pubblicato ma accanto a questo c'è un sistema di notifica di quelle che sono le diciamo individuazioni di positivi e di nel caso specifico di questa variante di queste mutazioni che noi come sanità pubblica dobbiamo comunicare sia al ministero che all'istituto quindi io ho preparato una nota che abbiamo già fatto partire dove noi riportiamo che abbiamo individuato la nuova variante questa del Regno Unito in tre soggetti che sono rientrati del Regno Unito sono due uomini e una donna scusate due donne e un uomo provenienti appunto del Regno Unito in questi giorni che stanno insomma bene c'è solo una persona che ha la febbre abbiamo un caso secondario quindi che adesso che comunque insomma anche questo sta benino che sequenzieremo per vedere se si tratta praticamente dello stesso virus tre sono con variante il quarto non sappiamo in un contatto stretto naturalmente familiare quindi è stata fatta l'indagine epidemiologica come per tutti gli altri casi sono stati messi i soggetti positivi in isolamento e tutti i contatti stretti in quarantena quindi i dipartimenti coinvolti che sono quello di Treviso e quello di Vicenza hanno mappato tutti i contatti e quindi sono seguiti in maniera molto molto precisa queste comunicazioni le abbiamo mandate al Ministero e all'Istituto e naturalmente manderemo all'Istituto tutti quelli che saranno gli aggiornamenti per quanto riguarda invece il report legato ai 37 alle 37 sequenziazioni che sono state fatte anche queste abbiamo allegato il report che ci ha mandato l'IZS l'abbiamo mandato all'Istituto perché il messaggio di questo riscontro e di queste mutazioni che risultano potrebbero essere collegate potrebbe essere la spiegazione di questo elevato numero di casi che abbiamo in Veneto per noi è molto importante come diceva il Presidente il messaggio è che abbiamo a che fare con un virus che risulta essere molto più contagioso e quindi la nostra responsabilizzazione e il nostro comportamento è molto importante al di là di tutto quello che possiamo fare noi ma penso che il Direttore Dottor Flore dopo ne parlerà ecco queste erano le cose che volevo dire buongiorno grazie mi sembra che quello che emerge oggi e che è stato detto in termini molto chiari sia che noi non ci preoccupiamo solo di essere puntuali e tempestivi nelle risposte nei nostri ospedali e per i nostri malati che ricordo stiamo continuando a dare e stiamo anche testimoniando con grande puntualità tutti i giorni qual è l'andamento vero della malattia della nostra regione se avete guardato con attenzione i dati voi vedete che noi abbiamo una situazione di un numero molto elevato di non terapia intensiva rispetto alle terapie intensive questo anche se ricordiamo rispetto alla prima ondata oggi abbiamo la spiegazione è un virus diverso questa non ce l'avevamo mai avuta fare supposizioni è facile dare dati è diverso ed è comunque una responsabilità che la regione Veneto si è assunta perché ha reso immediatamente pubblico quello che è l'esito di indagini e di ricerche molto sofisticate che mi viene da dire e la tabella ce l'avete nel mondo ha fatto solo l'Inghilterra chissà perché queste cose gli altri non ce le dicono noi appena abbiamo saputo e abbiamo avuto questa informazione l'abbiamo resa pubblica e lo stiamo facendo oggi questo ci dà ragione della diversa gravità della malattia che abbiamo visto nel tempo di che cos'è accaduto st'estate e ci dice anche che questa ondata è particolarmente epidemica e guardate noi possiamo adottare tutti i provvedimenti che vogliamo da quelli molto tradizionali che mi viene da dire della preistoria che sono la quarantena a quelli molto moderni che sono questi di studiare esattamente le caratteristiche del virus per capire come si comporta e cosa possiamo fare ma nessuna delle due cose nella quarantena nello studio molto sofisticato che stiamo portando avanti può sostituire il comportamento individuale io questo ve lo dirò ogni volta che ci vediamo non siamo abbastanza rigorosi nei comportamenti individuali e questo vale per tutti se volete un'osservazione che possiamo fare la frequenza degli ammalati e dei contagiati nel personale sanitario che assiste i malati di coronavirus è più bassa della frequenza nella popolazione allora ora voi capite che qui il comportamento la difesa il tenersi assolutamente controllati anche nelle proprie abitazioni e anche quando andiamo in giro è quello che fa la differenza perché se chi assiste i malati in rianimazione si ammala meno della popolazione generale la risposta è una sola stanno molto 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 attenti cosa che in giro non facciamo io continuo a vedere purtroppo gente che in giro non è rispettoso né di se stesso e tantomeno degli altri quindi noi continueremo con la nostra azione di rendere conto con grande trasparenza di darvi anche notizia di quello che apprendiamo in tempo reale perché quello che noi abbiamo capito oggi ci fa muoverci in una certa direzione e farà muovere tutta la nostra organizzazione in una certa direzione e utilizzeremo questi dati è arrivato un invito forte a rendere pubblici tutti i dati che si sono perché facendo massa critica e mettendo insieme le informazioni forse noi combatteremo il virus tutti insieme perché una pandemia mondiale non la può combattere un solo ospedale o una sola regione abbiamo bisogno di tutti per il tanto mi fermo grazie grazie dottor Flor cederei nuovamente la postazione alla dottoressa Ricci per le domande prego penso che ce ne siano allora Tosatto Nicolussi Vanzan Frigioni prima della Moscato buongiorno buongiorno dottoressa buongiorno intanto insomma complimenti e congratulazioni per la vostra scoperta che ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta la devo dire è chiaro che non dormiva no infatti le nostre le nostre malcelate imprecazioni verso il presidente che ci ha convocati a Santo Stefano devo dire che devono cedere il passo a questa ecco veniamo però alla domanda insomma c'è una ricaduta di estremo interesse direttore Flor l'ha accennato ma anche il dottor Rigoli c'è davvero l'ipotesi fondata che questa variante inglese che mi pare abbia come connotazione la pervasività quindi la forte contagiosità superiore al virus che conoscevamo c'è davvero la fondata ipotesi che questa variante inglese abbia influito in termini sensibili nella diffusione del contagio glielo chiedo perché non più tardi di stamattina il direttore dell'istituto superiore di sanità ha fatto notare che in Veneto c'è un RT di pari a 1,1 che è più alto d'Italia e da più parti gli scienziati definiscono veramente per alcuni aspetti incomprensibile questo andamento potrebbe essere questa la spiegazione in questo caso la variante inglese avrebbe avuto il tempo di diffondersi in questi mesi e di condizionare il volume il ventaglio dei contagiati grazie allora grazie per la domanda non semplice allora ad oggi abbiamo pochissime informazioni penso sia chiaro a tutti che tra casi non possono essere la spiegazione di un'epidemia di questo tipo peraltro la variante inglese se è arrivata in Italia è arrivata nelle ultime settimane quindi difficilmente giustifica andamenti precedenti ma potrebbe effettivamente giustificare quelli più recenti allora è chiaro che dobbiamo approfondire le indagini adesso abbiamo anche questo metodo rapido che ci permetterà di scrinare un numero elevato di campioni e capire se questa variante risulta essere molto prevalente in alcune zone potrebbe essere a me veniva da pensare la zona di Asolo è una delle zone in cui i contagi sono stati molto elevati e molto veloci e Asolo storicamente ha tantissimi collegamenti con il Regno Unito potrebbe essere ad oggi sono speculazioni non abbiamo queste informazioni però sicuramente siamo di fronte a un virus questo della seconda ondata caratterizzato da un'elevata contagiosità oltre alla variante inglese studieremo altre varianti magari ancora più tipiche del nostro territorio che anche esse potrebbero giustificare questi andamenti oggi sono solo idee sono primi spunti di riflessione ma vi assicuro che rapidamente avremo delle informazioni su cui invece basare proprio dei ragionamenti reali su questi andamenti se posso chiedere un'altra questi pazienti questi diciamo 3 più 1 3 nei quali è stata accertata la variante poi c'è questo caso secondario che è ancora subiudice in che condizioni sono cioè come stanno questo lascia la parola cioè nel senso che sono stati ricoverati sono stati dimessi sono a casa hanno un po' di febbre sono sono giovani andre 40 tranne uno due sono insomma abbastanza giovani sono studi cioè insomma sono giovani mentre uno poco più che quarantenne era per capire un po' se relativamente a questi pazienti un pochino come avete ricostruito la la catena di contatti questi sono tornati dalla Gran Bretagna vedo che non mi ha ascoltato no 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 zero no 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 beh prima di tutto quando quando lei si 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 lancia nella spiegazione non è semplicissimo seguirla seguirmi sono troppo veloce va bene comunque si insomma volevo allora questi tre soggetti che sono risultati positivi sono rientrati dalla Gran Bretagna e a seguito del fatto che non stavano tanto bene avevano principalmente un po' di febbre e senso di affaticamento questi sono i sintomi che ci hanno riferito ci hanno riferito hanno fatto come diceva il dottor Rigoli prima dapprima un test rapido e poi un test molecolare e sono risultati positivi i loro tamponi sono stati subito sequenziati come abbiamo detto e sono praticamente è stata individuata questa variante ho detto che è stato sono stati messi subito in isolamento e naturalmente insomma si sta seguendo la loro evoluzione anche con i rispettivi medici di base per quanto riguarda i contatti stretti sono stati fatti i tamponi sono risultati al momento negativi tranne uno che è il contatto stretto di un caso che comunque presenta soltanto al momento febbre e quindi non abbiamo insomma delle preoccupazioni riguardanti i contatti stretti sono stati tutti messi in quarantena e si sta seguendo quello che sarà insomma il decorso della loro quarantena fino a quando insomma passati dieci giorni se sono asintomatici verranno liberati grazie nicolosi buongiorno dottoressa scusi volevo finire questa parentesi e poi magari faccio delle domande alla professoressa Ricci allora questi tre positivi sono due di Vicenza e uno di Treviso no il contrario due di Treviso e uno di Vicenza non sono collegati fra di loro e il contatto di quali è? di Vicenza più contatto ok perfetto grazie dottoressa volevo chiedere poi alla professoressa Ricci tre cose tecniche cioè quante varianti avete individuato che possano appartenere esclusivamente al territorio Veneto volevo capire oltre ad Asolo quali altre zone hanno manifestato una diffusione più veloce mi risultava anche dolo però me lo dica lei per cortesia e su quanti campioni avete operato il sequenziamento sì allora le varianti allora sui 37 campioni sono questi più recenti perché ovviamente il sequenziamento noi lo stiamo facendo dalle prime fasi dell'epidemia però oggi stiamo parlando di questi campioni proprio delle ultime settimane sono 37 più i 5 scrinati diciamo per la variante inglese ok di questi 37 abbiamo trovato 8 genotipi diversi e di questi 8 genotipi 2 sembrano essere tipici del Veneto nel senso che sono stati trovati in Veneto e non nel resto d'Italia io ho citato Asolo solo perché mi è venuto in mente Asolo come ovviamente elevato numero di casi e possibili collegamenti con l'Inghilterra sull'andamento in altre aree però lascerei la parola ai colleghi perché io guardo noi guardiamo i virus e quindi insomma se posso aggiungere noi abbiamo avuto diverse zone in Veneto che hanno presentato una particolare incidenza e ne abbiamo parlato anche nelle volte in cui ci siamo visti abbiamo avuto delle aree nel Bellunese se vi ricordate il Comelico e abbiamo anche fatto sono stati presi dei provvedimenti ad hoc poi anche nel Vicentino nelle zone di Valdagno Arzignano abbiamo avuto la Valle dell'Agno abbiamo avuto dei comuni con un'alta incidenza che poi abbiamo seguito proprio con dei focus specifici abbiamo visto che a seguito proprio dell'adozione di provvedimenti ad hoc più restrittivi sono rientrati quindi diciamo che naturalmente l'infezione il virus è diffuso in tutta la regione ma attraverso il monitoraggio che viene fatto nelle singole aree abbiamo avuto la possibilità proprio di seguirle molto da vicino e di verificare dove si erano concentrate il maggior numero di positivi se posso aggiungere un'informazione fra i virus che abbiamo sequenziato quelli di Verona ad esempio sembrano appartenere praticamente tutti a questa variante di questo picco qui che è quella che vi dicevo non è solo Veneta è anche nazionale ma è caratterizzata da un'elevata diffusibilità i campioni che abbiamo visto di Verona sono tutti qui quindi anche questo potrebbe spiegare l'andamento nel veronese poi professore vorrei chiedere l'ultima cosa quando lei parla di questa procedura veloce che vi ha consentito di arrivare rapidamente all'individuazione della variante inglese senza sequenziare l'intero genoma mi può spiegare di cosa si tratta? sì allora non vado nel dettaglio perché non è propriamente il mio mestiere vi ho dato anche i riferimenti dei colleghi che vi possono spiegare tutto in modo preciso comunque siccome sono state pubblicate le mutazioni che caratterizzano la variante inglese noi abbiamo messo a punto dei test mirati delle PCR che vanno a identificare proprio il tratto genetico caratterizzato dalle mutazioni tipiche dopodiché andiamo a sequenziare solo il pezzettino in cui ci aspettiamo di trovare la mutazione quindi la procedura è molto più veloce anche se per avere la conferma al cento per cento ovviamente deve essere sequenziato tutto il virus cosa che stiamo facendo in questi giorni io ho l'ultima domanda per il dottor Rigoli posso? prego prego dottor Rigoli mi scusi volevo chiederle mi pare molto interessante vuoi venire qui? se no a Filippo grazie così ok volevo chiedere al dottor Rigoli mi pare molto interessante il fatto che adesso se non ho capito male verranno rivalutati e mandati allo zoo profilatico tutti i campioni da febbraio ma di tutto il Veneto o quelli sospetti? quest'estate noi abbiamo fatto un progetto per cui vengono mandati i campioni a partire da febbraio di tutte le ulse per essere sequenziati una parte ovviamente un campione quanti più o meno quanti ne avevamo avevamo adesso non mi ricordo nel dettaglio ma avevamo considerato ad esempio una decina al mese per ogni ASL per fare questo monitoraggio di base in modo ovviamente se il campione è rappresentativo dei positivi circolanti abbiamo un'idea di base di cosa stava succedendo da febbraio 10 per ulse al mese sono molti se posso aggiungere i tamponi che arrivano allo zoo profilatico secondo appunto l'accordo sono anche suddivisi a secondo della gravità questi tamponi sono appunto rappresentativi di tutta la situazione devono essere o deve essere specificato se si tratta di soggetti asintomatici se si tratta di soggetti sintomatici se questi sono stati ricoverati e qual è la terapia che hanno attuato quindi c'è un protocollo molto specifico che abbiamo inviato alle ursa finché invino questi campioni con questi tamponi quindi con le specifiche che vi ho descritto ma comunque possiamo anche e anche sui deceduti e comunque poi insomma tutti questi tutti questi tamponi questi sequenziamenti vanno a costituire una banca regionale che è appunto quello che diceva la dottoressa Ricci comunque con i dati tutti pubblicati e in collegamento con quelli nazionali infatti per questo lo volevo sapere e avete dato un finanziamento ad hoc di quanto quando è 300 2,60 in incremento diciamo così considerate che mi permetto di dire che oggi sembra è quasi banale parlare delle sequenziazioni noi ci siamo mossi quando il mondo non stava neanche pensando a queste robe luglio agosto dopo la Serena dopo la Serena è stata fatta voi vi ricordate che a Serena avevamo 370 cittadini positivi asintomatici Rigoli giustamente diceva guardate che questa è un'altra roba non è il virus che ho visto io in ospedale fino a qualche mese fa era estate invece c'era altra parte del mondo scientifico diceva semplicemente che è lo stesso virus invece la verità è che quei campioni processati ci dicono che era un'altra roba e non è una roba da poco grazie allora Rantan e poi i prigioni ricollegandomi a quest'ultima domanda professoressa voi quindi all'istituto zoo profilattico avete cominciato subito dall'estate ad analizzare i campioni avete tutti gli esiti oppure avete una scorta che dovete ancora valutare com'è il lavoro di analisi già fatto tutto assolutamente no noi abbiamo cominciato se vi ricordate io sono stata qui era giugno mi pare esattamente per portare i primi risultati dei sequenziamenti fatti in istituto quindi abbiamo cominciato subito a sequenziare allora avevamo dei campioni di Padova e di Verona per accordi che avevamo fatto con l'asl 6 e con l'asl 9 e poi abbiamo sequenziato appunto dei virus di Treviso e via via stiamo continuando a farlo adesso continueremo è un'attività che si fa in tempo reale quindi assolutamente i numeri aumenteranno nelle prossime settimane l'altra domanda che le rivolgo professoressa riguarda i grafici che lei ci ha mostrato questo italiano e il secondo Veneto con queste piramidi che sono veramente diverse l'una dall'altra sembra che nella prima fase nel resto d'Italia ci sia stato mi riferisco alla curva rosa un picco molto più alto che da noi in Veneto è stato più basso mentre invece nel periodo fine estate la piramide chiamiamola piramide azoteca quasi perché senza punta quella di fine estate l'abbiamo avuto solo noi qui in Veneto e analogamente adesso quest'ultima arancione lei come si spiega il fatto che qui in Veneto abbiamo avuto dei casi più elevati dal punto di vista quantitativo e che alcuni tipi di virus non ci siano stati ad esempio quello marroncino di giugno noi non avevamo nulla sì allora davvero grazie per questa domanda perché mi permette di chiarire una cosa estremamente importante che vi prego di notare questi due grafici hanno assi diversi ok perché ovviamente quello nazionale ha come asse centinaia di sequenziamenti quello Veneto sono decine ovviamente quindi attenzione non fate confronti fra l'altezza di una punta e l'altezza dell'altra perché i numeri sono diversi quello che si può vedere qui è la differenza nei colori e all'interno del grafico nazionale del grafico Veneto la relazione fra un tipo e l'altro di virus quindi l'andamento non è così diverso cioè anche in Italia il verde è più piccolo il marrone è più alto in Veneto lo stesso ok sicuramente è vero questa gialla da noi è ben evidente a livello italiano meno allora le spiegazioni quali possono essere la prima e più importante pochi sequenziamenti mi dispiace doverlo ripetere ma è ovvio che se pensate ai numeri che diciamo tutti i giorni in migliaia di casi i sequenziamenti riguardano poche centinaia quindi noi potremmo aver identificato col sequenziamento solo alcune tipologie di virus ma questa immagine potrebbe essere non completamente realistica ok quindi c'è un difetto legato alla numerosità e poi sicuramente il virus cambia le mutazioni sono molto frequenti e a livello dei singoli territori si possono creare delle varianti specifiche peraltro l'epidemia ci ha fatto muovere molto meno se pensate alla mobilità anche a livello nazionale pre-covid è ovvio che adesso c'è molta meno mobilità di persone fra regioni e fra territori e quindi questo giustifica ancora di più il fatto che ci possano essere delle caratteristiche locali che ripeto studieremo meglio con numeri più forti prigioni buongiorno a tutti e buongiorno professoressa a questo punto che cosa dobbiamo aspettarci mi sembra sfodato che il virus cambi abbia delle mutazioni da una domanda che estendo anche agli altri persone qui presenti queste variazioni dove vanno oltre alla contagiosità che caratteristica la variante inglese insomma tutto questo studio che stiamo facendo che cosa ci può dire per il futuro certo anche immediato sì allora ad oggi la variante inglese appunto è caratterizzata solo da solo non è poco però da una elevata contagiosità non ci sono assolutamente evidenze che il virus sia più aggressivo che dia forme cliniche più gravi né tantomeno che non risponda al vaccino diciamolo subito se questo può essere il dubbio non è così l'unica caratteristica è che il contagio l'infezione corre più velocemente perché il virus ha delle mutazioni che gli permettono di entrare più facilmente nelle cellule dell'ospite quindi si diffonde più facilmente cosa ci dobbiamo aspettare che se queste varianti prendono il sopravvento il virus diventa più contagioso e quindi tutte le misure di contenimento che sono quelle individuali ricordiamolo mascherina distanziamento devono essere sempre più importanti perché di fronte a un virus che passa ancora più facilmente le misure di controllo diventano essenziali dopodiché il vaccino farà il suo lavoro ridurrà la pressione infettante noi dovremo continuare a monitorare l'andamento di queste varianti per vedere cosa succede sul territorio grazie Moscati sì buongiorno a tutti ecco naturalmente volevo fare proprio questa domanda ma la riformulo proprio di base parliamo sempre di contagiosità però la gente mi dice ma cosa vuol dire non so il virus è più piccolo passa attraverso la mascherina sta più vivo nelle superfici cioè proprio tecnicamente quello che stava un attimino dicendo in questo momento se può spiegarlo un po' più dettagliatamente grazie certo allora come avviene l'infezione allora perché l'infezione avvenga il virus deve entrare in contatto con l'ospite questo è banale ok quindi la prima cosa che noi dobbiamo entrare in contatto con un virus ma questo non vuol dire infettarsi vuol dire solo entrare in contatto col virus a seconda del tipo di virus della carica virale e dello stato dell'ospite questo contatto diventa infezione ok è il motivo per cui non è che tutti quelli che vengono in contatto con una persona positiva diventano positivi di questa l'infezione dipende da vari fattori ok quindi la carica la quantità di virus il tipo di virus e lo stato dell'ospite in questo caso uno di questi fattori è modificato il tipo di virus è un virus che più facilmente entra nelle cellule ed ha infezione per cui la probabilità di infettarsi quando si entra in contatto col virus è più alta non è assoluta neanche in questo caso non vuol dire che se entriamo in contatto con questa nuova variante ci infetteremo di sicuro ma ci infetteremo più probabilmente che non se entriamo in contatto con un altro virus capisco che sono concetti un po' complicati è un po' complicato però lei ha anche detto dipende dallo stato della persona certo per cui praticamente l'infezione un po' come può essere una qualsiasi altra infezione chi se la prende e chi invece il corpo reagisce è corretto questo sì non è questione di dimensioni perché io volevo chiedere assolutamente no il virus è a vederlo è sempre lo stesso è sempre lo stesso assolutamente ecco e appunto dicendo parlando un attimo con il dottor Rigoli invece quest'estate lei ci diceva di questo virus di questo fatto che è diverso i comportamenti di quest'estate non hanno influito assolutamente su 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 questo a propagarsi di questa su questa mutazione e comunque quando lei ci parlava di un virus che avevamo bisogno di molte amplificazioni per trovarlo nei tamponi adesso questo immagino sia completamente diverso no no sono due cose diverse io erano due discorsi disgiunti allora per quanto riguarda le amplificazioni quest'estate ma anche a fine aprile mi ricordo abbiamo detto attenzione che quando noi amplifichiamo più di 30 33 cicli si tratta probabilmente dei pezzi di virus l'abbiamo qua detto qua dentro vi ricordate tutti dopodiché lo avete visto quello che ha detto il CDC quello che ha detto il CDC europeo e tutta la letteratura internazionale che dice sopra un certa amplificazione il virus non si replica e quello è un discorso che vale per tutte le varianti che ha studiato la dottoressa Ricci l'altra cosa che è un altro discorso è che quest'estate noi abbiamo notato dei soggetti che avevano cariche elevate l'ho detto più volte che avevano cariche elevate vi faccio l'esempio della caserma dell'ex caserma serena dove abbiamo trovato 256 soggetti positivi ad alta carica e non manifestavano sintomi dopodiché abbiamo addirittura d'estate abbiamo visto nell'RSA dei pazienti degli anziani che avevano carica elevata e non avevano complicanze e se vi ricordate abbiamo detto qua qualcuno mi spiegherà questa cosa l'unica questione che penso è che si tratti di una variante di qualcosa di diverso naturalmente quando diciamo queste cose sono supposizioni poi dopo si agitano tutti perché l'avete scritto anche sui vostri giornali le varie reazioni ma noi cosa abbiamo fatto durante l'estate abbiamo lavorato abbiamo messo su tutta questa rete con l'istituto zoo profilatico che ricordo anch'io è un centro di riferimento europeo hanno un'esperienza decennale e abbiamo costituito questo controllo adesso non è tanto non è solo quello che vedremo in futuro ma è quello che vediamo in passato perché è quello che ci permetterà di imparare perché adesso andiamo a scoprire le carte come si dice e andiamo a sequenziare ma non per avere ragione o torto perché non ci interessa assolutamente questa è che noi dobbiamo capire perché se poi riusciamo identificare bene correlando la clinica a quello che ci dice la dottoressa Russo allora possiamo identificare dei virus più pericolosi e di virus meno pericolosi delle varianti più pericolose o meno pericolose ma è tutto da studiare quello che penso che oggi emerga è il fatto che non possiamo tirarci indietro rispetto a questa indagine che è l'unica indagine al di là delle opinioni che ci dà delle risposte certe dopo le opinioni le lasciamo a tutti quanti ma noi rimaniamo nei dati ecco infatti io l'avevo già fatta questa domanda un mese fa forse quando era venuto aveva detto stiamo studiando e in effetti adesso si è capito allora la carica era lo stesso elevata ma non dava sintomi dunque era una una ma allora se questo virus continua imperterito a mutare come la domanda è la stessa come ne veniamo fuori perché è vero che lei dice noi andiamo a studiare il passato per capire il futuro no ma guardi che però c'è un'altra questione da studiare sempre della serie stiamo imparando noi stiamo imparando l'immunità cioè gli anticorpi che noi sviluppiamo quello che sta succedendo adesso è che ogni giorno noi abbiamo 3.000 o 4.000 positivi nuovi beh questi è come se fossero come dire facciamo il vaccino nel senso questi si ammalano e poi il vaccino avrà il suo effetto vedremo molto probabilmente dalle prime notizie ci dicono comunque che le varianti diciamo sono coperte no per cui ecco non voglio non voglio fare le previsioni no mi sono sempre rifiutato lo sapete però dico che la speranza è quella che sia vaccino sia d'altra parte un'altra considerazione che va fatta è questa noi abbiamo avuto il Veneto che è stato colpito pochissimo nella prima ondata quindi la circolazione del virus è stata bassa rispetto ad altre aree e probabilmente noi eravamo ulteriormente soggetti a essere infettati se voi andate a vedervi le aree della Lombardia che sono state più colpite nella prima ondata statisticamente non hanno sofferto nella seconda ondata anche questo è un dato indiretto che ci fa riflettere quindi voglio dire che speriamo nell'immunità sia del vaccino sia quella che stiamo sviluppando grazie sì mi permetto di dire una roba a chiusura e lo diceva anche prima il dottor Flor è bene evidenziare che questa ragione prende in carico tutti i pazienti e li cura questo lo dobbiamo dire anche con una punta di orgoglio e anche come riconoscimento del lavoro strepitoso che stanno facendo i nostri uomini e donne della sanità prendiamo in carico tutti i pazienti li curiamo e siamo una delle tre regioni in Italia che non ha chiuso alle prestazioni agli oncologici le prestazioni urgenti a una serie di attività provane sia che le nostre sale operatorie dello Iov anche sabato anche la vigilia lavoravano la vigilia o l'antivigilia adesso non ricordo la vigilia provane sia che oltre i 3.400 pazienti covid noi abbiamo in carico almeno quando va male o bene 7.000 pazienti non covid perché a me va bene tutto ma non riconoscere che questa ragione un giorno qualcuno ha detto ma Verona è come Bergamo no ma per un semplice motivo che stiamo ricoverando e curando tutti e se da un lato ci sono i nostri eroi che sono mitici i nostri medici dall'altro c'è una regione che anche quando non c'era il covid investiva comprava respiratori comprava 24 milioni di dispositivi mandava l'ossigenoterapia a casa faceva tutta una serie di scelte perché poi l'anestesista piuttosto che il pneumologo hanno la loro visione noi abbiamo l'obbligo di garantire a loro tutto quello che c'è a Cesare a quel che è di Cesare e ancora un tosato a Nicolussi e un avanzà dunque se la variante inglese chiamiamola così si è detto ha caratteristiche di maggiore pervasività cioè più contagiosa e quindi costituisce almeno nelle premesse almeno nell'ipotesi una minaccia maggiore una minaccia in più rispetto a quello che pensavamo ecco ci sono delle delle ricadute immediate sul piano clinico sul piano del ricovero sul piano delle cure sul piano della profilasse prima il dottor Flor ha tirato le orecchie a chi trascura le regole le regole di prudenza le regole di sicurezza ma insomma questo lo chiedo anche al presidente Zaia immagina una non lo so un irrigidimento per quanto riguarda gli attesamenti i comportamenti no guardate guardiamo in faccia la realtà il virus è il nostro nemico ignoto no sconosciuto anche per certi aspetti le cose che si possono fare stiamo tutte facendo a pieno regime e come ho sempre detto i cittadini devono aiutarsi e aiutarci lo diceva anche il dottor Flor e le regole sono sempre quelle quelle basilari dopodiché l'indagine andrà avanti e capiremmo che in base alla variazione alla mutazione avremo anche dei risvolti clinici perché dietro ad ogni tampone c'è la storia sanitaria e quindi verrà statisticamente elaborato un modello per ogni variazione c'è la mutazione che darà grosse polmoniti interstiziali ce ne saranno altre invece che avranno che so daranno magari più insufficienze respiratorie o altre partite tipo insufficienze cardiache scusate cardiopatia o altro insomma c'è tutta una miriade di insufficienze arenali c'è una miriade di risvolti per il covid però noi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto voi sapete che io mi sono ho sempre detto cioè piantiamo la vostra storia dalla prima fase alla seconda fase oggi lo vedete ancora più evidente cioè io quando leggo siete stati bravi nella prima fase e non nella seconda ma io dico ma in che pianeta vivete cioè secondo voi cioè noi abbiamo un on off allora nella prima fase non avevamo i dispositivi ve lo ricordate no? le case riposo non ce li avevano nella prima fase non facevamo testing facciamo 2000 tamponi al giorno le case riposo hanno avuto i primi pungidito arrivati in Italia li abbiamo presi noi 100.000 pungidito contro contro tutte le regole ma avevamo almeno quelli nella prima fase non avevamo una diagnostica come quella di oggi le case riposo oggi fanno un tampone nei 4 giorni nella prima fase le case riposo il 75% delle case riposo non è neanche visto il virus oggi c'è dappertutto e vuol dire che è cambiato qualcosa siccome gli uomini e le donne della sanità sono quelli di prima con più di prima abbiamo assunto 1200 medici di quella stiamo parlando il problema è che non è prima o seconda fase qua c'è un virus di allora e un virus di oggi e l'abbiamo visto lo si vede e quindi cambia la forza il rapporto di forza e dopo di che c'è anche il tema dei territori vi ricordate quante volte vi ho detto il bacino del nord est noi siamo partiti con un mese di ritardo rispetto a questa nuova infezione vi ricordate è partito Piemonte la Lombardia poi è passato alla Liguria Emilia Romagna e poi si è spostato al nord est ha esordito il Trentino Bozzano ha fatto il primo lockdown Trento Veneto Friuli Venezia Giulia che nonostante due settimane di arancione comunque a pressione Slovenia e Carinzia e anche Emilia Romagna perché il bacino dell'Emilia Romagna se non ricordo male i dati da aver 100 pazienti meno rispetto a noi ma a 4 milioni e 300 mila abitanti questa è la storia tutto il resto sono discussioni da stadio fatte in tribuna al Caldino Nicolussi se è tosato non ha altro no grazie allora presidente già che c'è dobbiamo anche ricordare che domani parte la campagna vaccinale finalmente e quindi volevo chiederle se può riassumere che cosa ci aspetta se avete scelto dei tra virgolette testimonial come è successo anche in altre regioni e volevo chiedere all'autoressa Russo o all'assessore forse lo sa l'assessore anche Lanzarin il tasso di adesione nelle case di riposo da parte degli ospiti e da parte degli operatori l'ultima cosa presidente mi scusi abbiamo bisogno di chiarire un dubbio che mi è stato posto io le prime volte ho sorriso ma ho sbagliato perché ho capito che c'è questa confusione importante da sciogliere la gente mi chiede ma il vaccino lo devono fare anche quelli che sono intubati ecco per cortesia potete spiegare che è un vaccino non curativo ma preventivo grazie diciamo che il vaccino previene previene l'infezione previene la malattia però come diceva giustamente il professor Palull l'altro giorno diceva che è anche disinfettante cioè evita sembra sembra eviti il contagio allora detto questo io vi posso dire solo una cosa che i vaccini poi passerei la parola all'assessore dottoressa Russo decidete voi i vaccini arrivano a mezzogiorno giusto domani alle 8 domani mattina a Padre sì alle 8 e quindi da mezzogiorno più o meno inizieremo a vaccinare e sono 875 dosi quindi una giornata di vaccinazione europea simbolica dopodiché sembra che e poi il dottore Salusso vi darà altre notizie e io spero arrivino poi in maniera copiosa le dosi ecco anche qui siccome c'è sempre polemica su tutto allora diamo un po' di materiale anche a quelli che hanno tanto tempo noi abbiamo comprato le siringhe ma lo sappiamo che ci davano i vaccini con le siringhe porca miseria lo sappiamo c'è scritto dappertutto ma siccome poi se manca le siringhe è sempre colpa di Zaia io ho fatto comprare anche le siringhe quindi avremo un contingente di siringhe eh quante ne avete comprate? quelle che servivano parliamo di minimale adesso non lo so ma posso garantirti che possono arrivare le boccette senza le siringhe ecco ma a me sembra che da Veneti siamo sempre stati prudenti no? adesso veniamo accusati perché abbiamo comprato le siringhe siamo accusati perché abbiamo 111 terapie in più rispetto a quello che dovevamo fare da legge scusami è vietato siamo accusati perché abbiamo un magazzino che di 12 mesi di dispositivi si poteva andare cioè noi così va bene perché io non voglio più sentir dire che manca qualcosa quindi presidente arrivano a Padova e da Padova vengono smistate in tutti gli ospedali passere la parola dottoressa Russo grazie io dico solo una roba dottoressa il vaccino è volontario tutti avranno la lettera a casa noi siamo organizzati ditelo scrivetelo con orgoglio che abbiamo fatto la prima anagrafe vaccinale italiana e che l'anagrafe vaccinale nazionale si è ispirata a quella veneta e che ci sono regioni in Italia che ancora scrivono sui foglio o a penna non hanno neanche l'anagrafe vaccinale ecco dite questo è volontario scriveremo quindi a casa tutti testimonia o non testimonia insomma siamo qui tutti i giorni a rivendicare le libertà personali la scelta il fatto della centralità del cittadino boh ragazzi e c'è il vaccino la storia del covid non sembra non mi sembra che bisogna ripetere mille volte ognuno deciderà cosa fare se no succede come con le azioni Veneto Banca ve lo racconto ancora sono andato all'assemblea di Veneto no perché cioè scusatemi Santo Stefano lasciatevelo dire sono andato all'assemblea di Veneto Banca otto ore di interventi la giornata della tragedia io sono stato ascoltarlo tutto a un certo punto va su una sul palco l'ho già raccontata la riconto va un signore sul palco e dice io ce l'ho con Zaia perché? perché ho comprato le azioni che avevo letto sul giornale che anche lui ce le aveva il vaccino fate come volete avete capito? ma lo dico perché deve essere una scelta responsabile di certo poi in ospedale nei bollettini scriveremo vaccinato non vaccinato così magari cominciamo anche a capire chi si è vaccinato anche dal punto di vista clinico ci serve capire questo ovvio che il mondo anche qui apriti cielo quando l'ho detto io è stato il primo ci vorrà un passaporto sanitario garantito al limone che adesso il passaporto sanitario con l'avvenuta vaccinazione ci sarà perché ormai compagnie aeree lo chiedono lo chiederanno strutture ricettive lo chiederanno luoghi dove c'è aggregazione chi è che farebbe entrare mille persone in un auditorio con il dubbio che possa accadere qualcosa basta dottoressa Ruscio mi fermo perdoni a proposito proprio di questo forse sarebbe utile per vedere il rilascio di una certificazione dopo il richiamo tutto e adesso mondo i vaccini no allora diciamo che l'altro giorno qualche giorno fa abbiamo anche dato tutto il materiale che spiega il nostro piano che abbiamo approvato con un provvedimento di giunta e che abbiamo diciamo dato mandato alle ulse di organizzarsi per tempo individuando tutte le sedi che e tutte le modalità che abbiamo scritto e condiviso per attuare tutta la campagna di vaccinazione parte con gli operatori sanitari che cominciano domani come abbiamo detto e poi continua tutti gli operatori sanitari sono stati informati tutto è pronto non solo per domani ma per quello che sarà nei prossimi giorni nei prossimi mesi quindi è tutto pianificato ogni vaccinazione viene naturalmente registrata seguiranno quelle che sono le prassi di ogni vaccinazione parlo piano perché se no non si capisce e naturalmente la persona avrà poi intanto viene prenotata subito la seconda dose perché abbiamo detto che la schedula vaccinale al momento è costituita da due dosi e poi viene rilasciato un certificato di vaccinazione come sempre quindi tutte le vaccinazioni sono registrate e disponibili se poi il ministero ci darà un format che sarà necessario per l'estero o per altre situazioni ancora non lo sappiamo probabilmente appunto come diceva il presidente sarà così e tutti i soggetti possono aderire volontariamente verranno convocati all'inizio adesso sono gli operatori sanitari a cui è stata mandata la nota per la vaccinazione secondo una stratificazione di rischio abbiamo spiegato dopo quando passeremo alla vaccinazione degli ultra ottantenni e poi così via per corte naturalmente tutti verranno informati e convocati per la sede vaccinale che è stata prevista quindi questo è il nostro piano è chiaro che l'unico strumento attualmente disponibile per prevenire la malattia è la vaccinazione e l'abbiamo detto non abbiamo altre soluzioni molto si sta facendo per quanto riguarda la cura ma è chiaro che la cura arriva quando la malattia si è già manifestata quindi poi ognuno sceglie quale può essere insomma la misura più appropriata per la propria vita insomma e per in base alle proprie scelte alle proprie convinzioni dottoressa mi scusi il tasso di adesione il tasso di adesione degli operatori e degli ospiti delle case di riposo qual è? allora per quanto riguarda gli operatori abbiamo fatto una stima al momento abbiamo una adesione una adesione una intenzione alla vaccinazione che comunque può anche cambiare sia in senso sia che uno si sia espresso sia che non si sia espresso poiché viene invitato poi decide se presentarsi o meno nel momento in cui si presenta abbiamo un'adesione che è oltre il 90% adesso poi vedremo per quanto riguarda le strutture residenziali abbiamo fatto un incontro anche con l'assessore naturalmente l'attenzione è molto alta non abbiamo avuto al contrario risponderei una sensazione o una stima di opposizione alla vaccinazione quindi noi pensiamo che insomma tutti potranno soffrire di questo per quanto riguarda intubati o meno è chiaro che nel corso di una manifestazione clinica nel corso di malattia non è mai prevista la vaccinazione questo è una cosa di basse quando è superata la malattia e quindi un soggetto è guarito non c'è nessuna controindicazione alla vaccinazione per un soggetto che ha avuto o la positività senza diciamo in maniera asintomatica oppure che abbia superato la malattia vanza no basta no no ma non mi rinuncia volevo chiedere al professore Sarici in base alla sua esperienza quello che sta succedendo con il coronavirus è normale sì allora sì perché è un virus e si comporta normalmente stavo pensando e mi fa piacere dirlo il virus influenzale muta continuamente cioè le mutazioni fanno proprio parte del modo in cui il virus funziona lui si replica e replicando fa dei piccoli errori di replicazione che sono le mutazioni alcuni virus lo fanno di più alcuni di meno quello influenzale lo fa tantissimo così come il coronavirus quindi sì è assolutamente normale per un virus nuovo che non ha una risposta immunitaria nella popolazione è normale che muti e non c'è niente di drammatico nella mutazione è solo qualcosa che va conosciuto e seguito e ripeto non c'è nessuna preoccupazione rispetto ad esempio alla copertura vaccinale come per il virus influenzale al limite quando si vedranno delle mutazioni cambierà anche il vaccino come si fa con il vaccino dell'influenza grazie signori grazie grazie grazie